Vi prego di stare tranquilli, io sono il sindaco di Casalecchio di Reno, lui è il mio vice sindaco con la delega della protezione civile. Qua siamo tutti al sicuro e tranquilli, premetto la zona dell'arena, le vostre auto, tutto ciò che è intorno è molto tranquillo. A Casalecchio è andata anche limitatamente bene il resto della settimana metropolitana, quindi la situazione è tranquilla. Però, finito il concerto, per almeno due ore, vedremo se si va oltre, dovrete restare qui, perché c'è il casello dell'autostrada che non si riesce a imbocchiare, non si va verso Corretta. A Bologna, insomma, sono successi buoni questioni, li potrete vedere tranquillamente. Non è problematica qua, lo facciamo per tenere tutti in sicurezza e questa è una decisione concordata con la Prefettura e con il Siena Metropolitana. Quindi vi invitiamo a mantenere la calma, a stare tranquilli, finirà chiaramente il concerto e dovrete rimanere qui, io rimarrò qui con voi. Questo magari non mi comporta molto, però almeno rimarrò qua fino alla situazione risolta. Adesso lascio proseguire il concerto, un saluto a tutti.